Con questa Mark IV in versione olografica Hot Toys riesce a unire un aspetto futuristico di una delle più importanti armature di Iron Man e allo stesso tempo a conservare uno sguardo affascinato su una delle più classiche Mark mai create nel mondo Marvel. Ciao amici sono Giandal36 e concludiamo la nostra panoramica relativa alle novità di Hot Toys almeno per quanto riguarda la fiera annuale del Toy Fair con questa nuova e innovativa armatura di Iron Man che porterà l'esperienza dei collezionisti dell'uomo di ferro ad un livello completamente nuovo. Per le altre uscite Hot Toys che riguardano il Toy Fair vi lascio sotto i link in descrizione. Disegnata da Tony Stark la Mark IV ha lasciato un'impressione notevolmente positiva nei cuori dei fan per la sua grande importanza nel Marvel Cinematic Universe. Con questa esclusiva Hot Toys ricrea un aspetto realistico di questa armatura in versione futuristica. E' la prima figura di Iron Man in cui Hot Toys adotta un aspetto opaco completamente traslucido. Questa Mark IV in versione olografica è rigorosamente in scala una 6 con dei toni rossi e una livrea dorata dotata di un incredibile design che unisce la creatività alla raffinatezza di progettazione soprattutto degli ingranaggi. Realizzata utilizzando la tecnologia più recente la figura di Iron Man è unica nel suo genere e prodotta in un numero limitato di esemplari. E' altamente dettagliata e perfettamente realizzata sulla base dell'armatura di Tony Stark che è usato nel film Iron Man 2. Presenta un corpo che sembra blindato e con proporzioni accurate. Illuminata a led sul petto, gli occhi, le mani e gli avambracci. Con articolazioni rafforzate composte da un materiale opaco traslucido in colori rosso e oro che rivelano il design meccanico e i dettagli della complessa armatura. Oltre a due set di armature intercambiabili sempre per gli avambracci. Sicuramente gli amanti di Iron Man saranno felici di aggiungerla nella loro collezione. Quindi a questo punto la domanda rimane solo una. Top o flop? A voi l'ardua sentenza. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da rimanere sempre informati su tutte le prossime novità. Io come al solito vi saluto, vi ringrazio e mi raccomando state senza pensieri! Ciao a presto!